La città di Bitonto si prepara ad approvare definitivamente il PUMS, il piano urbano per la mobilità sostenibile, che prevederà il senso unico su Via Tretta e su Lungolama, con un restringimento della corsia e un allargamento dei marciapiedi. La città diventerà una sorta di grande rotatoria all'interno, in cui verranno eliminati sostanzialmente i principali doppi sensi che ci sono in questo momento e che aumentano sicuramente lo smog, che hanno parecchie confusioni, incoraggiando, devo dire, anche l'utilizzo dell'auto inopinatamente, cioè anche quando non sarebbe necessario. Interventi per ridurre l'uso dell'automobile e incitare la gente a spostarsi a piedi, in bici o con mezzi pubblici. Nel Lungolama si aumenteranno i marciapiedi, perché dove riduci lo fai a senso unico, lo fai anche per aumentare i marciapiedi, quindi invitare la gente a camminare e a godersi di più la città. E altre novità sulla mobilità arriveranno presto, assicura il sindaco, con una pista ciclopedonale che collegherà Bitonto al suo bosco, partendo da Via Cela e passando per le due frazioni. Previsti interventi anche sulla mobilità, sui ponti e sull'illuminazione pubblica sulla SP231, attualmente carente in diversi punti, principalmente all'altezza degli ingressi per la città, con disagi per gli automobilisti. Sul ponte di Via Palo siamo riusciti a far partire i benedetti lavori dopo aver stanziato i fondi necessari in città metropolitana e adesso ci sono i lavori in corso, quindi sarà sicuramente più illuminato e comunque l'SP231 per quanto riguarda lo sviluppo industriale che poi ha avuto Amazon stesso e sull'SP231 sicuramente merita degli interventi molto più grossi. Grazie per la visione!